Presidente, Pescara che siamo sinceri ha sofferto il pineto e il calcio d'agosto che ha l'importanza relativa, ma non sono state delle belle indicazioni? Se dobbiamo dare indicazioni nostre, no sicuramente, però abbiamo visto che c'erano due squadre, una molto più pronta, che correva di più e una molto più imballata, perché noi non ancora finiamo con il lavoro, il mister sta facendo ancora due allenamenti al giorno, per cui c'è tempo, poi avevamo mezza squadra fuori, per cui c'è tempo ancora per lavorare nel modo più assoluto. Però tra Reggio e Emilio, o meglio, tra Fiore e Insuola e oggi Pescara non ha dimostrato quei concetti di calcio a Zemaniano, almeno in fase offensiva, poi al di là delle condizioni atletiche. Eh ma se non stai bene, che vuoi dimostrare? Se sei imballato e sei pesante, è difficile dimostrare quei concetti dove ci sono i tagli e le sovrapposizioni, quando starai meglio sicuramente li dimostrerai. Quindi non è preoccupato il Presidente? Nel modo più assoluto, ma anche perché, Enrico, noi abbiamo fatto una squadra giovane e meno giovane, con giocatori che secondo noi sono bravi, bisogna avere anche pazienza di aspettare, e che se dovevamo dire che avevamo fatto una squadra che uccideva i campionati, non l'abbiamo mai detto, non lo possiamo dire, non ce lo possiamo permettere. E quindi questa è una squadra che secondo noi è molto ben attrezzata, il tempo tecnico per smaltire tutto il lavoro che hanno fatto e poi cominceremo a vedere se questa squadra se la può giocare o meno. Una domanda mia, e poi lascio il microfono a Massimo Profeta da studio, la domanda mia è su cosa state lavorando sul mercato, Presidente, nel senso oggi Mora e Colai erano fuori, indicazioni di mercato, problemi fisici, prima cosa, e poi se al centrocampo arriverà uno o due giocatori? No, noi quelli che erano fuori erano fuori quasi tutti per problemi fisici, perché Aloy non è ancora al 100%. Mora e Colai è un mese che parliamo di Colai, sapete che se c'è la possibilità, il ragazzo vorrebbe andare a giocare, a trovare più spazio, andrà a giocare. Mora, ho sempre detto, per me non è un problema, ma se poi il giocatore decide che non sta bene qui, si troverà una soluzione. Se dovesse uscire Mora, sicuramente la pedina dove andiamo a lavorare farà un centrocampista. Studio Massimo Profeta Buonasera Presidente, la domanda flash interverrà quindi sul mercato, in entrata, il Pescara, oppure bisogna far uscire prima qualche giocatore? No, no, ho detto, se dovesse uscire qualcuno noi interveniamo, se non dovesse uscire nessuno siamo 26, dove li metto? Mi li porto a casa.